Ci troviamo nella zona alta di Formello, precisamente in via Emilio Bassanelli. La soluzione che andremo a visitare oggi è uno splendido appartamento di circa 90 metri quadri, con un ampio terrazzo di circa 30 metri quadri che circonda interamente l'immobile. L'appartamento, situato in una palazione di tre piani con accesso carrabile privato, è composto da ampio salone che dà accesso al terrazzo e dà angolo cottura, da due stanze da letto matrimoniali e completano l'immobile e due bagni finestrati con doccia. Entrambe le stanze, anche esse, danno accesso al terrazzo. Immerso nella più totale tranquillità, l'appartamento gode anche di un posto autoriservato e di ascensore. Per ulteriori informazioni visitate i nostri siti ruggiano-marconi.com e tempo-casa.it